Benvenuti cari follower, quindi domani, venerdì, 16 agosto 2024, c'è un allarme molto serio. Ma prima spero che tutti condividiate urgentemente questo allarme molto grave con il maggior numero possibile di italiani e di tutto il mondo. Grazie a tutti Allerta Rossa per la Sardegna, poiché domani, venerdì, soprattutto le regioni settentrionali e centrali della Sardegna, saranno esposte a temporali molto forti. Questi temporali saranno accompagnati da forti venti, con abbondanti precipitazioni e rischio di allagamenti, con caduta di grandine aumenterà d'intensità dopo mezzogiorno sull'isola di Sardegna e potrebbe causare ingenti danni. Invitiamo pertanto tutti i cittadini e i residenti dell'isola di Sardegna a prestare la massima cautela domani, venerdì, soprattutto nelle ore centrali della giornata, perché il fenomeno si intensificherà. I temporali saranno molto forti ed eventuali altre novità importanti cercheremo di comunicarvi in seguito.